Urbino non può diventare la pattumiera d'Italia ed è uno dei motivi importanti per andare a votare al ballottaggio di domenica e lunedì e scegliere Federico Scaramucci. Perché? Io sono stato tra i primi a sostenere questa candidatura di un giovane che ha preso posizione chiarissima contro una scelta folle della regione e del centro-destra che ipotizza di fare una mega discarica proprio nella valle prospiciente Urbino patrimonio mondiale dell'umanità dell'uneste. Già solo questo è un motivo sufficiente, uno per mobilitarsi e andare tutti a votare, due per evitare un disastro. Nel 2024 si può ipotizzare di fare in un'area verde, è bellissima che io ho visto personalmente una mega discarica che farebbe confluire rifiuti magari da varie parti d'Italia. Questo è il primo motivo. Il secondo, abbiamo lanciato proprio nei mesi scorsi con il candidato sindaco Federico Scaramucci la iniziativa di fare di Urbino una città ecodigita, una città che punte alla transizione ecologica e digitale che attragga anche dall'estero, oltre che dal resto d'Italia, persone e intelligenze e che offre ai giovani e ai cittadini di Urbino una città moderna, che guardi al futuro, ben radicata nella difesa della tradizione e della storia. Un turismo di qualità e soprattutto una forte identità per l'innovazione. Quindi no alla pattumiera, sì a Urbino ecodigital, un motivo per andare a scegliere e far scegliere a tutti Federico Scaramucci, sindaco di Urbino.